. Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 3 ottobre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, bella questa giornata per l'amore, sfruttatela. Sul lavoro ci sono buone opportunità per una crescita. In amore bisogna agire perché le stelle sono favorevoli. Sul lavoro avete una grande voglia di fare ma la fatica è tanta. Stimati da chi sta in alto, raccoglierete l'approvazione dei conviventi e amici. Con un cielo così promettente, non avrete che da scegliere in quale sport, attività o semplicemente svago all'aria aperta, volervi dedicare. Venere se siete della terza decade, vi consiglia discipline giapponesi come lo shiatsu che vi potrà incuriosire molto. Scena astrale che favorisce tutte le vostre iniziative e, veramente, l'unico rischio è quello di strafare, di lasciarsi prendere troppo la mano e pensare che tutto sia per voi possibile, che ogni cosa vi sia permessa. A darvi un senso del limite, proporzionando le ambizioni alle possibilità effettive, ci penserà a Marte, temporaneamente negativo dal segno della bilancia e se appartenete alla terza decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 9, benessere, 8. Toro. Cari Toro, torna il sereno nella vita di coppia dopo un periodo difficile. Sul lavoro siete un po' affaticati ma riuscirete a recuperare ben presto. Ci vorrà un po' di pazienza oggi. Per quanto riguarda lavoro sono favoriti i nuovi progetti. La luna è la regista di un periodo favorevole, infondendovi un felice spirito volitivo che vi spiana la strada per occasioni fortunate, specie nella sfera sentimentale e in quella economico, finanziaria. I rapporti con la famiglia sono improntati all'aiuto reciproco e all'ascolto delle rispettive ragioni. E la stagione autunnale vi vede energici e pimpanti, dotati pienamente della vostra spontanea carica vitale. Nettuno, pianeta che collabora fortemente alla strutturazione dell'intelligenza, in angolo armonico col vostro segno, prepara la risoluzione diplomatica di alcune controversie patrimoniali che riuscirete a risolvere piuttosto brillantemente. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Gemelli. Cari gemelli, in amore bisogna agire perché le stelle sono favorevoli. Sul lavoro avete una grande voglia di fare ma la fatica è tanta. Torna il sereno nella vita di coppia dopo un periodo difficile. In amore arriva un bel periodo di recupero. Sul lavoro bisogna stringere i denti perché le spese sono tante. Venere e Marte, Urano e Giove, la Luna e il Sole vi tengono in palmo di mano. E continua per voi un periodo trionfale, sia in ambito pratico, materiale che intimo e privato. Marte vi invoglia a svolgere attività che vi facciano divertire. È più opportuno, però provare sport soft o le lunghe passeggiate all'aria aperta. La vostra intelligenza è la bussola che vi guida in ogni nodo e imprevisto da sciogliere. Anche l'umore si mantiene alto e il mondo circostante, degli amici e dei conviventi, non manca di dimostrarvi simpatia e non dirado di esprimervi un autentico affetto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 7, benessere, 6. Cancro. Cari cancro, c'è tanta insicurezza in amore, soprattutto se avete a che fare con qualcuno della Vergine o dei gemelli. Sul lavoro potete aspirare a qualcosa di meglio di ciò che avete già. Se siete single non chiudetevi in casa perché ci sono buone opportunità di fare nuovi incontri. Sul lavoro potreste ricevere qualche proposta interessante. Giornata armonica. L'aluno nel segno per voi favorevolissimo del toro, vi illumina oggi il cammino, si moltiplicano i vostri interessi e il tempo libero si vivacizza di progetti. Per il momento a sentirne l'influsso benefico sarà chi di voi nasce dal 4 al 12 di luglio. È sempre la luna a donarvi oggi la carica giusta per rimettervi in sesto, se avete un po' ecceduto nelle gioie della buona cucina. I vostri sport prediletti, e dove non dirado vi mostrate dei veri assi, sono il nuoto, la corsa, il calcio e l'acqua game. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 9, benessere, 9. Leone. Cari leone, questa è la giornata ideale per i nuovi incontri grazie alla luna nel segno. Sul lavoro, le cose iniziano ad andare meglio. Oggi la luna, urano e poi anche giove, pongono note di stanchezza e vi consigliano di dedicarvi di più alla famiglia, e, eventualmente ai vostri figli. Tuttavia un cielo particolarmente radioso vede splendere altri pianeti che vi appoggiano incondizionatamente in ogni vostra iniziativa. La forza di decisione sarà guidata dalla razionalità, il vostro classico temperamento accentratore sarà modulato sull'autocontrollo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 7, benessere, 8. Vergine. Cari vergine, non siete molto soddisfatti del vostro partner e gli stessi dubbi ci sono anche sul lavoro. Agite invece che rimuginare. C'è qualche incertezza ma cercate di essere più comprensivi con il partner. Sul lavoro siete molto ambizioso ma sarete premiati per questo. Si alza oggi la vostra già notevole facoltà di attenzione, nulla di quel che accade attorno vi sfugge, tutto è soppesato e analizzato. Se ne giova il settore professionale e quello pratico attivo. Uno dei vostri pianeti prediletti, Mercurio, si dispone in angolo favorevolissimo dal vostro segno e dà modo alle vostre iniziative più brillanti di prendere il volo. Non solo il fisico ma anche la mente ha bisogno di nutrimento per voi in questo momento. Sempre Mercurio molto positivo vi fa trovare il tempo per assistere a presentazioni di libri ed eventi culturali che vi aprono a nuove prospettive. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 8, benessere, 9. Bilancia. Cari bilancia, potreste avere qualche difficoltà in amore, le coppie devono risolvere problemi nati nel corso degli ultimi due mesi. Non esagerate con gli impegni lavorativi. Non potete fare tutto. Datevi delle priorità. Vedrete che tutto sia giusta. Rimboccatevi le maniche. Prima o poi i nodi vengono al pettine, ricordatelo sempre. In questa giornata di inizio autunno vi svegliate di buon umore e con una bella carica attivo, combattiva al vostro fianco. È vero che avete Venere, Corpo Celeste vostro nome tutelare, benefica da Leone, che vi rende solidi da un punto di vista emotivo e morale, ma è anche merito della vostra straordinaria forza di carattere che vi dà manforte e vi illumina il cammino. Con il sole ancora al vostro fianco potete contare su un'ottima prontezza di scatto. Vi attende la palestra o, con gli amici di famiglia, balli scatenati dove poter esibire la vostra prestanza fisica. La parte sociale e mondana è un po' sottotono, ma non importa, in questo momento le soddisfazioni professionali e familiari vi riempiono di più la vita. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 8, finanze, 9, benessere, 8. Scorpione. Cari Scorpione, sta per iniziare una settimana interessante all'insegna di Venere. Una semplice amicizia potrebbe diventare qualcosa di più e sono possibili ritorni di fiamma. Per le coppie è il momento giusto per recuperare un distacco. Per quanto riguarda il lavoro, si attendono buone notizie. Il duo Saturno, Nettuno vi aiuta a mutare in modo intelligente la vostra vita pratica e intima, uscendone completamente trasformati. Cambiamenti di posizione lavorativa, mutamenti nello stare insieme con il vostro amore, rinnovamento di case, di luoghi e di famiglia, ogni svolta radicale è possibile e va in direzione della vostra evoluzione. Plutone Capricorno è pure il grande benefattore donandovi un aspetto fisico smagliante e una robusta salute. Una schiera di pianeti vi guarda di buon occhio, facendo in modo che le vostre mete reali, ma anche quelle ideali, si avvicinino sempre di più. Suggerimenti per fare sport è mantenere una linea invidiabile, il nuoto e la corsa. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 6, benessere, 6. Sagittario. Cari Sagittario, fate attenzione agli amori troppo lontani o inarrivabili dal momento che potreste essere indecisi tra due storie tra passato e presente. Attenzione alle spese. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e ora il portafogli piange. Cercate di frenare un po' l'istinto compulsivo all'acquisto. Mercurio, ospitato nel segno della Vergine, vi ostacola un pochino, se siete nati nella terza decade, mettendo un freno al vostro, a volte spericolato, gusto per l'avventura. Tuttavia con Marte al vostro fianco, dalla buona vicina bilancia, avrete un aspetto fisico magnifico e una simpatia irresistibile. Se ne avete la possibilità potrete provarvi in sport come l'equitazione o il ciclismo. Calore umano, slancio attivo verso l'esterno, sorriso travolgente, vi caratterizzano in questa giornata di metà ottobre segnata da molti pianeti benevoli, ma, soprattutto da Venere e Marte in felice posizione. Sarete nella vostra forma migliore, con molte frecce al vostro arco da scoccare in varie occasioni e per centrare svariati obiettivi. Pagellina del giorno. Sentimenti, nove, attività, sette, finanze, otto, benessere, otto. Capricorno. Cari Capricorno, sta iniziando un periodo più di riflessione che di azione in cui è possibile essere chiamati a scegliere tra due storie. Le coppie devono ritrovare serenità. Per quanto riguarda il lavoro, aumenta la responsabilità e la voglia di mettersi in gioco. Il richiamo intellettuale e speculativo diventa per voi intensissimo specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Saturno nel segno a voi propizio dei pesci vi fa tuffare i nuovi interessi culturali, frequentare libererie, visitare luoghi insoliti, la vostra vera passione. Per molti di voi il benessere si misura nel conoscere nuova gente che vivifichi il vostro istinto sociale. Fate attenzione, però, a non trascurare i doveri familiari, il sole e marte negativi, ospitati nel segno rigoroso della bilancia, possono rendervi un po' troppo misurati, freddi o addirittura assenti, nel riscaldare il focolare domestico. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 7, benessere, 10. Acquario. Cari Acquario, tensioni per i single questa settimana mentre le coppie possono ritrovare serenità, i rapporti messi a repentaglio sono a rischio. Agitazione anche sul lavoro. Tranquilli, tutto passa. Qualche problema con i mezzi di comunicazione o di trasporto potrà crearvi urano, transitante nel segno del toro, a voi tecnicamente ostile, ma saprete, con la vostra agilità fisica e mentale e un audace tempismo, mettere, infine, a posto tutto. Il vostro fisico risplende della sua migliore condizione. E se siete sportivi o amanti dello sport, marte, vostro amico dalla bilancia, vi può aprire a discrete prestazioni in tutte le discipline. E il quadro astrale è abbastanza positivo in questa giornata. La razionalità accompagna ogni vostra azione, se nati in gennaio, con Saturno in pesci che vi consiglia in campo familiare e nella gestione del vostro tempo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 5, benessere, 6. Pesci. Cari pesci, Venere potrebbe portare un grande amore mentre le coppie in crisi potranno recuperare il terreno perso. Per quanto riguarda il lavoro, può esserci una bella soddisfazione in arrivo. Vedrete che presto tutto si aggiusta e riuscirete a togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. Saturno è in bell'aspetto di congiunzione e vi garantisce una tenuta delle facoltà mentali in ogni occasione. Perché la previsione è di sereno variabile, oggi, evidenziando alcuni alti e bassi nel tono e nell'umore e una non perfetta sintonia con l'ambiente. Con lucidità e, spesso, con un tocco di astuzia, riuscirete ad arrivare dove vi siete proposti, specie in campo professionale. Gli astri suggeriscono di dedicarvi alla cura del vostro fisico, seguendo tecniche rilassanti e attività fisiche soft. Se ne avete la possibilità, efficace una visita, anche breve, in una beauty farm. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.